Il Partito Democratico è in crisi, ma quanto profonda è questa voragine? Vincenzo De Luca, noto per non avere peli sulla lingua, sgancia una bomba che scuote l'intero panorama politico. Non riuscite a conquistare neanche il voto di vostra madre. Ma cosa c'è davvero dietro questa frase? E quali accuse devastanti ha lanciato De Luca contro la leadership del PD? Rimanete con noi, perché quello che stiamo per svelare potrebbe cambiare il modo in cui vedete la politica italiana. Chi sta guidando il PD verso quello che De Luca definisce un suicidio politico? Quali sono i temi ignorati e le scelte che rischiano di condannare il Partito all'irrilevanza? Vi avvertiamo, non sarà un racconto per cuori deboli. Prima di proseguire, ricordate di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Restate sempre aggiornati sulle rivelazioni che nessuno vi racconta. De Luca non le manda a dire. La leadership del PD, secondo lui, è scollegata dalla realtà e incapace di comprendere i bisogni veri del Paese. Temi come la sicurezza, fondamentali per milioni di italiani, vengono completamente ignorati e mentre il PD si concentra su slogan ideologici, le classi più disagiate restano senza risposte. Ma non è tutto. De Luca punta il dito contro l'approccio del PD alla giustizia. «Balbettano quando si parla di riforme», dice. Secondo lui, senza un sistema giudiziario più efficace e meno burocratico, l'Italia rimarrà paralizzata. E poi c'è la questione delle imprese. De Luca accusa il PD di vedere eri imprenditori come nemici, invece che come partner per la crescita del Paese. Ma può un partito che demonizza chi crea lavoro essere davvero al servizio del popolo? Ma il colpo più duro arriva quando si parla del Sud Italia. De Luca denuncia un abbandono totale, con sanità e infrastrutture al collasso. È una pugnalata che potrebbe costare caro al PD in una delle aree più strategiche del Paese. Secondo voi, il PD può ancora salvarsi? O, come dice De Luca, è destinato a scomparire? Scriveteci nei commenti. Vogliamo sapere cosa ne pensate. E se pensate che queste verità debbano essere ascoltate, lasciate un like, iscrivetevi al canale e sostenete chi racconta ciò che i media tradizionali non osano dire. La realtà è questa. Il PD, con il suo linguaggio autoreferenziale e le sue battaglie ideologiche, rischia di perdere tutto. De Luca chiede un rinnovamento, ma la domanda è chi avrà il coraggio di ascoltarlo?